Il maestro Luciano Pompilio decide di dare vita a quello che noi oggi possiamo identificare come la sua visione. Ha preso il via la ventesima edizione della Rassegna Musicale Internazionale in Concerto, una manifestazione che negli anni, grazie al maestro Luciano Pompilio, ha ospitato oltre 300 concerti, tenuti dai lustri musicisti del panorama italiano e internazionale. La serata di apertura ha visto il ritorno di una delle artiste più importanti della musica classica internazionale, la violinista Ayman Musa Kayayeva. Considerata tra i migliori esponenti della scuola violinista del Kazakisan, Ayman è una delle poche artiste al mondo a suonare un autentico violino stradivari. Accompagnata dal talentuoso pianista siciliano Giuseppe Gullotta, anche lui da anni, presente sulle scene musicali internazionali. Insieme hanno eseguito il programma Virtuosismo e Bel Canto, che prevedeva l'esecuzione di alcuni dei brani più difficili scritti per violino, regalando al pubblico una serata di virtuosismo e grande musica. La novità di quest'anno è stata il carattere itinerante della manifestazione. Quattro dei concerti in programma saranno ospitati dal Teatro del Giannone a San Marco Illamis. La rassegna continuerà fino a dicembre, promettendo serate indimenticabili per tutti gli appassionati di musica.